Buongiorno! Happy New Year! For everyone, we go to Maragoni School! Wearing Attico for Misa Vitori France, pomodori rossi, basilico verde dei colori, bisogno dei colori C'è tutto il primo La moda per te è un primo Niente Mangiare insieme che significa? Dividerlo! Comunicare Via Andy, vogliamo arrivare alla moda, no? Quanto affamati siete? Quanto volete riparare il vostro sogno? La cosa è nata! Non sai che cos'è che mi piace se lo stanno andando? Lo sento? Certo, nel senso! Quanto affamati Grazie! Grazie 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 Grazie